eccomi con un altro video tutorial lo vediamo insieme prima il prodotto finito un cuore che batte con una transizione incascata è un'immagine del dello stesso file con un testo semplicissimo lo faremo insieme e vedrete come disarmante la semplicità iniziamo per praticità ho già inserito o trascinato per la decisione la clip che troverete poi anche nella cartella zippata come al solito nel mio sito vi inserisco anche il file musicale e l'immagine andiamo subito a doppiarlo quindi copia e incolla abbiamo due clip in sequenza e un'immagine la mettiamo al centro bene quest'immagine vi dico subito è da sistemare un po perché innanzitutto debborda e grande la dobbiamo ridimensionare e dobbiamo settare meglio il colore la faremo dello stesso colore del font che poi useremo quindi iniziamo a lavorare abbiamo detto che dobbiamo ridimensionarla eccola lì andiamo in adattamento e sistemiamoci il colore io ho il codice perchè poi mi sbrigò prima 19 12 f3 userò lo stesso per il font andiamo subito a sistemarci il testo eccolo lì eccoci qua abbiamo usato come vi dicevo lo stesso codice esa decimale in più ci ho messo una leggera ombra settata con un rosso per farlo sollevare un po dalla dalla diciamo dall'appiattamento e inoltre vediamo un poco io vorrei darci in effetti vorrei darci una come dire un movimento io l'ho settato così voi fate come volete vi voglio far vedere l'anteprima dovrebbe esplodere eccolo lì i secondi sono tre e vanno bene vi ricordo che con queste fraccette direzionali potete andare in giro per tutta la timeline avanti e indietro avremmo finito andiamo a vedere allora clip e immagine di nuovo il video e faremo adesso una copia di questo incolliamo in pratica ce la lo troviamo già ridimensionato già con gli stessi colori dobbiamo solamente andare a modificare il testo questa volta io scrivo tutorial e voi scrivete quello che volete in pratica ho già in memoria sia il codice del colore l'ombra il movimento dello style questo è bello e pronto dobbiamo solamente inserire le transizioni anche questa è in memoria nei recenti vedete e dovrebbe essere questa infatti è proprio questa la potevo anche potevo anche copiarla come dire selezionare tutte in una sola volta vabbè sono trovata così potevo selezionare la prima e copiare le altre è disarmante la semplicità di questo video vediamolo intero vi voglio far vedere ve lo voglio far vedere con quest'altra anteprima che diciamo è un attimo più grande è uguale è uguale e conforme a quello che vi ho fatto vedere prima bene spezziamolo inseriamoci la la traccia musicale la traccia musicale la seguiremo dalla timeline come vedete è cortina nel senso che non arriva tutta la l'estensione della lunghezza del video semplicemente la la duplico mi posiziono a questa altezza e cancello il rimanente che non mi interessa e in più vado a clicco sulla traccia clicco dalla tastiera ctrl mantengo premuto per tutto il tempo e vado a sfumarmi la il finale del della della canzone altrimenti finirebbe forse anche qui all'entrata mi tocca fare lo stesso servizio per sfumare dunque si bisogna cliccare sulla traccia ctrl dalla tastiera e agire per i nodini direi che può andare non ci resta che salutarci vi ringrazio anche per l'attenzione arrivederci